buongiorno questa è la rassegna stampa in breve di video 33 oggi è domenica 19 agosto il cielo sarà per lo più sereno su tutto il territorio provinciale temperature estive non si escludono però alcuni rovesci anche di carattere temporalesco dal primo pomeriggio andiamo a vedere un'immagine registrata alle 6.30 di questa mattina sopra l'abitato di Bolzano questa la situazione appunto come potete vedere qualche nube residua dalle piogge della notte lascerà spazio al cielo sereno all'orizzonte vediamo il dettaglio delle previsioni per oggi iniziamo con la provincia di Bolzano ancora una giornata estiva con tempo generalmente soleggiato al mattino ed aumento della probabilità di rovesci o temporali dalle ore più calde e andiamo a vedere anche la situazione in provincia di trento anche qui il cielo per lo più sereno con qualche nube in transito temperature massime 31 gradi a trento 32 gradi arriva del garda bene ora con l'aiuto della regia vediamo le aperture dei quotidiani locali e nazionali che troviamo oggi in edicola iniziamo dall'alto adige dentro il disagio della città si parla del capoluogo viaggio in via per a toner dopo la nuova aggressione individuato l'autore poi negli interni con patcher l'autonomia prima di tutto una lunga intervista a cura di francesca gonzato oggi negli interni al governatore passiamo poi al correre dell'alto adige autostrade a sede nord est per le concessioni riprende quota la holding con patcher apre alleanza con trentino veneto e friuli nella fotonotizia poi turismo tanti progetti nel verde e le vigne sfrattano il bosco cambi di coltura per quasi 200 ettari e poi ancora negli interni disabile bolzanino denuncia lasciato a terra da flixbus l'episodio in vacanza all'azienda verifichiamo passiamo poi ai quotidiani dalla provincia di trento con l'adige rossi prime crepe nel pat panizza non vuole la rottura col centro sinistra nel partito dubbi sulla corsa solitaria in difesa del presidente la avanzo non firma il documento nel taglio centrale poi schianto mortale in moto passorolle turista tedesco di 49 anni contro un furgone perde la vita sul colpo poi andiamo con il trentino si schianta e muore a passorolle con la motocicletta contro un furgone dell'ortofrutta e poi scusate nella fotonotizia via la vendemmia sarà un'ottima annata così dicono gli agricoltori lunedì si parte praticamente in tutta la provincia di trento con le uve bianche andiamo poi alla cronaca lingua tedesca con il settimanale set in edicola come ogni domenica al posto del quotidiano dell'omitten in apertura le tante i tanti matrimoni della giornata di ieri dei lettori del settimanale e poi negli interni ancora il sondaggio esclusivo del dell'editore in primo piano questa volta si parla di traffico inquinamento e prodotti a chilometro zero andiamo poi con la bildam sontag la cronaca internazionale in apertura qui il calcio con il la bundesliga in germania che riprende corriere della sera funerali il dolore e le polemiche da genova mattarella ora la verità con rigore autostrade offre mezzo miliardo il ministro di maio no a elemosine applausi al capo dello stato ai ministri e vigili del fuoco fischi ai rappresentanti del partito democratico le vittime intanto salgono a 43 andiamo poi con il sole 24 ore mattarella italia unita per la verità da atlanti a 500 milioni per genova ovviamente si parla dei funerali dopo il crollo del ponte castellucci si scusa ma la responsabilità va accertata dai magistrati e nel taglio centrale poi si parla anche di ricostruzione del governo 28 milioni per l'emergenza bene con questo ho terminato con i giornali vi ricordo alcuni appuntamenti da non perdere in regione in provincia oggi è l'ultimo giorno della festa country a prato allo stelvio poi il 23 di agosto l'aperitivo lungo all'insegna della beneficenza la brasserie forst a bolzano poi dal 24 al 26 di agosto i giochi medievali a sluderno e sempre dal 24 al 26 di agosto la finch gau cup 2018 per gli amanti dell'hockey su ghiaccio al foro di laces con questo ho terminato non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione augurarvi una buona domenica grazie a tutti